Orsetto il terribile. Allora questo libro l'ho preso prima dell'estate in un momento mio di esasperazione dopo aver passato un pomeriggio con i miei figli e cercando in vano di gestire i dispetti del mio più grande a discapito del più piccolo. Ecco presa diciamo dallo sconforto ero finita in una libreria e avevo incontrato appunto questo libro Orsetto il terribile e sfogliandolo pagina dopo pagina mi sembrava proprio di rivedere mio figlio e quindi ho detto ma forse questo fa il caso nostro. Infatti la storia è molto semplice ossia c'è un orsetto che ne combina di tutti i colori ai danni degli animaletti del bosco. Cerca di far cappottare dalle foglie di ninfè col pennele con un bastone quattro ranocchie, si diverte a pescare i pesci per poi vedere quanto tempo respirano fuori dall'acqua senza morire e insomma diciamo che il suo unico scopo è spaventare chiunque capiti nei paraggi. Quindi Orsetto è talmente temuto da tutti gli abitanti del bosco che nel momento in cui scoppia un terribile temporale lui si ritrova ovviamente solo, anzi nel momento in cui nevica. Ma le cose per fortuna sono destinate a cambiare perché nel bosco c'è qualcuno che ha capito di cosa realmente ha bisogno Orsetto il terribile, di una cosa che nessuno fino a quel momento gli ha ancora dato, semplicemente affetto e attenzione. Ed è così che il terribile e più temuto orsetto della foresta si trasforma in un amabile orsettino in cerca di coccole, lecca muso e abbracci, appunto come li chiamano qua nel libro. A me è servito leggere questa favola lieto fine a mio figlio proprio perché utilizzando questo libro come pretesto gli ho chiesto se anche lui si ritrovasse un po' dispettoso come orsetto e se anche lui si comportasse così magari perché semplicemente voleva più attenzione da parte mia. E diciamo che il libro inoltre si presta anche molto a dei momenti di coccola perché da un certo punto in avanti Orsetto avendo scoperto la bellezza dei baci e degli abbracci continua a chiederle e quindi quando leggiamo questo libro appunto c'è una parte in cui dice ancora, ancora, ancora e quindi ogni volta che questa orsa che non è sua mamma, è un orsa che lui appunto incontra e che si prende cura di lui, lo bacia e lui chiede ancora anche noi mentre leggiamo il libro ci coccoliamo e ci diamo i baci. E quindi diciamo che è sicuramente un modo carino per darsi la buonanotte. E poi soprattutto fa anche riflettere sul fatto che talvolta per attirare l'attenzione non c'è bisogno di attirarla facendo i dispetti o essendo irrispettosi nei confronti degli altri. Magari per avere l'attenzione talvolta basta semplicemente chiederla. Quindi se siamo irrispettosi e dispettosi nei confronti degli altri ci autocondanniamo alla solitudine. Come appunto dimostra anche la storia di Orsetto che prima della venuta di questa orsa che si prende cura di lui era ovviamente isolato nel bosco perché tutti lo temevano.